Oggi sono qui in provincia di Varese a vedere questo bel cantiere di ristrutturazione e di riqualificazione energetica dove questo appartamento verrà completamente ristrutturato con materiali a basso impatto ambientale come ad esempio fibra di legno e poi indonaco di argilla. Ho conosciuto il committente su YouTube e oggi da questa consulenza sono venuto al cantiere per vedere la statua di avanzamento dei lavori. Questa è l'argilla che appliceremo sul muro e tutta questa superficie verrà coibentato con la fibra di legno poi in tonaco di argilla per dare una migliore prestazione estiva e per stare in un ambiente confortevole per tutti i componenti della famiglia. Qui dentro si starà molto bene una volta che i lavori saranno conclusi. È un piacere fare le consulenze sui materiali naturali che puoi vedere che vengono realizzate effettivamente nelle abitazioni.